Buonasera, benvenuti al nostro appuntamento con la voce delle istituzioni. Quest'oggi abbiamo come ospite in studio il sindaco di Calazzo, Luca Decarlo. Buonasera, grazie dell'invito. Partirei subito dal tema energia. Le famiglie faticano per ovvi motivi e anche le imprese a volte zoppicano. Volevo chiedere innanzitutto se come ente locale avete avvertito il colpo, quanto avete avvertito il colpo e se ci sono state misure invece dirette magari alle famiglie. Beh, innanzitutto come ente locale avvertiamo il colpo su due fronti. Sul fronte interno perché abbiamo un netto aumento dei consumi anche dei nostri stabili. Penso alle scuole, municipio, ma all'illuminazione pubblica. E lì siamo intervenuti con risorse, sottraendo risorse a tutto il resto, ma risorse dell'avanza di bilancio. Quindi siamo già intervenuti per oltre 50 mila euro. Sul fronte invece famiglie avvertiamo il disagio di tante famiglie che sono in difficoltà con le bollette, anche quelle che non lo erano magari fino all'anno scorso. Abbiamo aperto un bando nel quale abbiamo messo 30 mila euro, che per un comune di 2 mila abitanti non sono veramente pochi. Un bando di 30 mila euro nel quale riusciamo a intervenire nei confronti di chi è in difficoltà a seconda del numero di componenti di lucro familiare. Per cui fino a un massimo di 800 euro a fronte di pagamento di legna, pellet, bollette o gas avvenuti nell'anno in corso. È un piccolo intervento. Chiaramente non risolveremo nel comune di Calazzo i problemi, però cerchiamo di lenire quelle situazioni che magari potrebbero diventare pericolose, anche a fronte del fatto che si avvicina l'inverno, il famoso generale inverno si avvicina e quindi da noi i costi, soprattutto per il scandamento, sono diversi da quelle che si hanno in altre aree e quindi è nostro dovere intervenire. Il bando è aperto, le famiglie che hanno un reddito ISE sotto i 15 mila euro e guardate che una famiglia di tre persone nel quale il marito lavora, la moglie magari fa part time e il figlio va a scuola, rientrano perfettamente dentro questa tipologia di reddito. Questa è l'ennesima situazione delicata da gestire per i comuni. Nel senso c'è stato il Covid, prima c'è stato Vaia. Il meteo non ci dà una mano spesso e quindi ci sono delle piccole emergenze da risolvere e da gestire, però poi i comuni vorrebbero anche fare della programmazione. E uno strumento per farla sono i fondi di confine. Sì, purtroppo i sindaci in questi anni, io faccio il sindaco dal 2009, e ho sempre fatto più il ministro della difesa che dell'attacco, cioè più il ministro della difesa che della programmazione, perché oggettivamente ogni anno non solo le grandi calamità che ha citato giustamente lei, ma anche i tagli orizzontali, la difficoltà di reperire personale oggi, perché oggi c'è una carenza di manodopera, anche a livello privato, per cui il pubblico non è più visto come la prodo sicuro, anche perché, sinceramente, gli stipendi del pubblico non sono stipendi che attraggono tante figure, per cui quando fai un bando nel pubblico oggi non è più iperaffollato, anzi, facciamo fatica ad assumere, noi abbiamo appena fatto un bando per un operaio, l'abbiamo preso da gubbio, non del territorio, e sì che ne abbiamo fatta pubblicità. Per cui c'è anche questo problema, una poca e scarsa attrattività del pubblico. A questo si aggiunge la capacità, ormai ridotta ai minimi termini, degli uffici tecnici. Io sono fortunato perché ho una struttura comunale che nel suo complesso funziona benissimo e di cui sono contentissimo e che mi ha consentito, soprattutto in questi anni, di poter dedicarmi, assieme agli amici amministratori che mi hanno dato una mano sul luogo, di dedicarmi anche a altre attività politiche e amministrative. Però non per tutti è così. E quindi anche la gestione di quella manna dal cielo, che si chiamano fondi di confine, diventa difficile. Penso che a Caralzo nell'ultima programmazione abbiamo portato a casa oltre 2 milioni di euro per la cittadella dello sport, per rifare lo stadio, oltre 500 mila per farne l'erba sintetica. Abbiamo portato a casa quasi un milione per cofinanziare la riqualificazione della stazione. 400 mila per il giro intorno al lago che completerà la prima tranche di lavori che deve iniziare, che deve essere progettata, che deve iniziare, che collegherà Caralzo con Auronzo per chiudere poi l'anello Cortina, Auronzo, Misurina e Caralzo. Queste sono risorse che cantano circa, se non sono 5 milioni, sono 4 e mezzo. Ecco, quelle sono risorse importanti, oggi messe magari un po' in discussione, ma che prevedono anche un impegno corposo e non è l'unico, perché poi dobbiamo lavorare sui fondi del PNR, dobbiamo lavorare sui fondi per ridurre il consumo energetico, l'efficientamento degli stabili, quindi lavoro ce n'è tanto, non c'è la struttura. E quando qualcuno crede che i costi della politica, ammesso che la politica non debba avere un costo, ma tutte le democrazie hanno un costo, perché basterebbe poco, basterebbe pagarne uno, no, per non avere un costo, ma non credo che sia la formula che piace al mondo, nemmeno a me, io credo fortemente nella democrazia, ma ha un costo. Pensare che lo siano i comuni e lo siano i sindaci è quanto di più errato abbiamo visto in questi anni. Dopodiché che i sindaci possano svolgere assieme meglio dei servizi e svolgere singolarmente dei servizi è una partita su cui possiamo confrontarci. Io personalmente non credo oggi alle fusioni, credo molto agli unioni di comuni, cioè al fatto che se facciamo qualcosa bene la possiamo fare insieme. È il principio della sussidiarietà e non inventiamo nulla. Quello che si può fare meglio lo si fa vicino al cittadino. Quello che poi strutture più grandi possono fare meglio lo si fa allontanandosi. Quindi è un principio naturale. Facciamo già tante cose assieme. La raccolta dei rifiuti è in unione di servizi. Il segretario comunale è in unione di servizi. Qualcuno ha la polizia locale in unione di servizi. Noi siamo rimasti scottati come il famoso gattino che si scotta con l'acqua calda pura anche di quella fredda da una convenzione fatta 15 anni fa fatta male con qualcuno che ci guadagnava e con qualcuno che perdeva. Quindi diventa difficile farla assorbire ai nostri cittadini. Però ci sono tante cose sul quale possiamo lavorare insieme. Lo sportello suo per le attività produttive è tutto assieme. Gli sfalci, i prati e le attività manutentive sono assieme le fa la comunità montana. Poi ci sono cose, servizi sociali ad esempio, che sono il contrario del reddito di cittadinanza che invece allontanava i cittadini dal territorio e i bisogni dai territori. Ci sono quelli che sono anni di esperienza e che possono essere messi in rete, sì, ma che sono meglio controllati sul territorio. Ecco, per le unioni dei servizi occorre anche essere d'accordo, occorre anche remare un po' tutti dalla stessa parte. Sono d'accordo, però la gente rema dalla stessa parte nel momento in cui gli viene spiegato come un bambino di 4 anni con il pallottoliero. Io voltavo un assessore che si chiama Gianni Tabacchi, che il primo incontro che abbiamo fatto quando ci siamo presentati ha detto guarda io di filosofia non so niente, io ho un pallottoliere e i conti devono tornare sul pallottoliere. Io ancora oggi in Senato spiego alla gente che i conti si fanno col pallottoliere. Questo abbiamo, questo esce, questo ci resta. È una lezione di vita. E quindi dobbiamo farlo. Se noi dimostriamo ai sindaci, ai nostri colleghi, che il campanile è un valore aggiunto e non un valore da togliere, i nostri colleghi capiscono che è vantaggioso anche per quel campanile unire i servizi. Dopo se qualcuno non vuole unirli perché ne ha tanti da spendere, beato lui, ma se ne ha tanti me ne dia pure un pochi, io a Calazzo non ne ho da putter via da spendere. Però insomma, credo che i sindaci che vengono eletti tutti di qualsiasi partito politico o civici hanno un interesse solo che è migliorare il proprio paese, nessuno diventa ricco a fare il sindaco. E quindi tutti vogliono migliorarlo. Se gli dimostriamo che è meglio fare un servizio assieme, non credo che ci sia nessuno che per bieco ideologia non voglia unire servizi. Fare il sindaco ha sicuramente un impegno. Lei ha detto che nessuno diventa ricco facendo il sindaco. Lei ha terzo mandato. Si porrà il tema della continuità? Insomma, io ho dei ragazzi in consiglio comunale, delle persone che sono con me dal 2009. Questa volta abbiamo rinnovato un po' la squadra perché qualcuno, penso al mio assessore da colma, anche al mio vicesindaco da via, che è in consiglio ma che ha voluto un impegno minore, non ci sono, ma parte della squadra, l'ossatura c'è e c'è dal primo minuto. Si sono aggiunti dei ragazzi nuovi, tutti con grandissima voglia di fare, voglia di essere presenti. Io sono anche fortunato, ho aggiunto questi due assessori esterni, seppur uno è eletto, per avere la squadra più grande possibile. Credo che all'interno ci sia una figura che può fare il sindaco, che può mettersi comunque a disposizione degli elettori per essere valutata. Certo che io per fortuna o per sfortuna, perché a me piace tantissimo fare il sindaco, però credo che uno dopo tre mandati, indipendentemente che si cambi la legge o meno, mi auguro vivamente di no, che non venga cambiata e quindi rimanga al limite di tre mandati, uno dopo tre mandati, giustamente può lasciare lo spazio anche a qualcun altro, anche perché forse dopo tre mandati, ma io credo già dopo due, qualche stimolo in meno ti viene. Poi io qualche incarico altro ce l'ho, quindi cerco di essere utile, sempre anche al mio comune, nell'altra veste. Insomma, qualcuno che voglia bene al paese come ho voluto io e come ho cercato di trasmettere anche ai ragazzi che erano con me, credo che ci sia e che quindi si possa essere tranquilli, che tanto lavoro fatto non andrà né disperso, ma comunque magari ci saranno idee nuove, più fighe, una cosa che magari coinvolga anche persone che magari in questo periodo, perché c'era Luca De Carlo, ma ne non avevano voglia di fare. Tutto qua capita sempre così, quando uno da troppi anni lì, rischia di stufare anche un po', allora, largo ai giovani. L'idea rimane sempre quella di valorizzare al massimo le peculiarità del territorio. Voi ne avete una importante, molto importante, che è l'area di Lagole. Sì, lì dovremmo fare un grande lavoro, per anni non si è scavato, perché non lo si teneva necessario, la sua intendenza diceva che non c'era un'opera muraria, che non serviva a scoprire, abbiamo dimostrato, rieprendendo gli scavi, con un po' di attività, che invece qualcosa da vedere c'era, che le opere murari esistevano e che quindi si poteva andare avanti. Ho fatto appello anche ai privati perché mi sostenessero in questo, in realtà abbiamo messo solo soldi pubblici, qualcuno non ci ha creduto. Adesso con il Ministero della Cultura vorrei provare ad intensificare gli scavi, a cercare di fare un progetto che veramente valorizzi quella che è la nostra storia. A Lagole ci sono stati tutti, insomma, dai Veneti Antichi ai Celti ai Romani. E quindi secondo me è fondamentale riuscire a raccontare questa storia e fare di quell'area che noi abbiamo continuato a migliorare ogni anno, anche attraverso la viabilità, i nuovi parcheggi, la strada nuova, la pulizia delle aree, il percorso, tra l'altro finanziato dal loro Ministro della Gioventù, Giorgio Meloni, che oggi, Maracaso, è il Premier, su cui conto molto anche per sviluppare questo tipo di progetto. Credo che quella possa essere veramente un'area di interesse. Cioè la gente deve partire apposta per venire a Lagole. Perché chi viene, poi ne serve un ricordo eccezionale, io trovo gente che mi dice, ma io sono stato a Lagole, è bellissima, come mai è poco valorizzata? Anche le recenti trasmissioni a un passo dal cielo, che hanno avuto delle scene a Lagole e che rivedremo anche in questa occasione, in questa versione, il prossimo inverno, hanno dato una grandissima visibilità. Quindi io credo che lì vada lavorato. Ma non solo per l'avvisibilità generale, anche per l'importanza che quel sito, all'interno delle questioni archeologiche, riveste in Italia, in Vedo, ma soprattutto in Italia. Ci stiamo avvicinando al termine di questo incontro, come ogni fine pasto. Arriviamo al caffè e arriviamo a berlo al bar alpino. Sì, io c'ho il bar alpino, il mio cruccio, l'abbiamo costruito con le misure anticrisi dell'allora Assessore Giorgetti nel credo 2010 o 2011. È stato gestito per anni da una società che poi ha fatto altre scelte imprenditoriali, che ha investito ancora a Calalzo e che oggi è un punto di riferimento. Qui va ringraziato il mio amico Guido Lozza anche per aver quest'estate poi partecipato al bando e tenuto aperto appunto il bar alpino, nonostante avesse mille impegni, ma solo con uno scopo, quello di dare un servizio. Adesso io vorrei che veramente quel posto tornasse a vivere. Rifaremo un bando. Quest'estate cercheremo qualcuno che lo vuole gestire. Credo che sia un'opportunità, soprattutto per i giovani, altrimenti dovremmo sicuramente trovare una forma di gestione. Io non lo so se è un'associazione, la Proloca, una cooperativa, perché io non posso permettermi, il mio paese non può permettersi di avere quel posto chiuso tutta l'estate. Ci ragioneremo, ragioneremo e faccio un appello a chiunque ci ascolti, ma anche alle associazioni del paese stesse, perché quel posto non possa restare chiuso. Cioè la porta della Val d'Oten è in un posto straordinario. Credo che meriti la considerazione che il Comune e la Regione hanno messo nel costruirlo e realizzarlo. Grazie mille per essere stato con noi. Grazie a voi dell'invito. E quindi buona serata e buona continuazione. Grazie mille.